Il quale secondo te siamo a vele bianche? Sì Barberizzati Sì, barberizzati eventualmente Dobbiamo arrivare fino alla Tremonte? Sì Quindi potrebbe essere che facciamo un'istata qua o no? No, no No, perché da qui a qui è 77 Quindi al limite c'è il 70 e poi 85 Però stavo pensando che non ha senso Mettere un fiocco più grosso Perché non è che passi dal 3 al medio No Quindi qua facciamo un'istata E a quel punto conviene avere l'A4 Perché se puoi strippi A meno che non vediamo che è esagerato Ah, giustamente, sì Perché strippi Ma questo qua dobbiamo vedere La qui da cala francese Perché l'A2 appena lo devi stringere un attimo Lo rischi di esplodere E a quel punto conviene avere l'A2 appena lo devi stringere un attimo Ragazzi, le lenchie la strappa È cugna e le lenchie la strappata Grazie a tutti. Grazie a tutti.